Amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti in una nuova puntata delle Orrecensioni. Voi direte, ma mo' ci hai preso gusto, insomma, ne stai a fare un po' una pressa all'altra. La verità è che sto combattendo un po' lo stress leggendo. Sarà anche la fortuna che mi sono imbattuto, come vi dicevo nello scorso video, in una serie di titoli di puro entertainment che mi alleggeriscono i pensieri e mi stimolano in particolar modo, che mi è venuta voglia di, soprattutto, soprattutto leggere, attenzione, aggiusto un pochino il tiro, piuttosto che magari vedere una serie di puro sul treno, però ho fatto anche quello, perché mi sono visto, non vi dico cosa, perché... no? Capito? Ok, bene, non si può dire. Allora, 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 ho uno, due, tre, quattro, cinque titoli, non sono tantissimi, sarò anche abbastanza veloce, tanto lo sapete come sono le recensioni. Vi parlo del succo, non è che vi sto a dire tutta la trama, va pappero, va papà, perché mi piace anche un pochino lasciarvelo scoprire a voi. Più che altro vi comunico le mie sensazioni, le mie emozioni derivate dalla lettura di questi albi. Comincerei con una serie di testate che in realtà sono una prosecuzione di letture per poi andare su un paio di volumi a sé stanti e l'inizio di una nuova serie. Allora, la scorsa puntata, le scorse recensioni dove c'era Gianmarco con gli occhiali a Top Gun, abbiamo parlato del primo numero dello Spider-Man di Sara Pichelli, scritto da JJ Abrams e figlio. Ecco, settimana è uscito anche il numero due e questa volta mi sono voluto mantenere su una lettura freschissima senza far passare troppo tempo, anche perché il primo numero mi aveva particolarmente sollazzato il divertimento e il piacere della lettura e così ho continuato. Beh, vi devo dire che comunque rimane sempre molto molto piacevole, i disegni, i colori, le chine sono molto molto buone, come vi dicevo secondo me sono ad un livello un pelino più alto dei Fantastici 4 e su questo secondo numero, ricordiamo che è una mini di 5 numeri, il prezzo di 3 euro, vediamo come in un futuro, in un futuro, non è un futuro, una terra proprio alternativa, non è terra 616, ma è proprio un altro mondo creato appositamente per questa miniserie, vediamo il figlio di Peter Parker affrontare i primi problemi con la sua supereroisticità e il suo modo di dover affrontare grandi poteri e grandi responsabilità. Il tutto in questo numero vedrà lo svolgimento, il tutto affiancato, il buon Ben da una protagonista, eccola qua, il cui nome mi resta difficile da pronunciare, però se volete ve lo ritrovo. Feie Ito si chiama questa ragazzetta, questa protagonista. Molto interessante, ho trovato appunto il rapporto che si crea tra il Peter Parker appunto di questa terra, che è ormai soltanto un fotoreporter dopo che negli eventi in radio nel primo numero ha perso Mary Jane e ha abbandonato completamente l'attività di Spider-Man. Vediamo appunto come questa eredità, questa legacy venga trasferita completamente sul figlio e sono molto belli appunto i rapporti e i legami familiari come vengono indagati ed esplorati da questo fumetto. Quindi non posso che continuare anche dopo il numero due a consigliarvene la lettura. Dietro le quinte vediamo come il cattivone comparso in apertura, il primo numero, questo cadaverico, cerchi di ritornare in forma per poter andare a ritrompere le scatole al ragno, che in questo caso ovviamente dovrà essere per forza un altro, ma non escludo sorprese anche perché appunto ci diceva Sara Pichelli che le bombe arriveranno a venire. Quindi ancora io mi sentirei di tagli ancora un bel sette, un bel sette, sono soldini 3 euro ben spesi. Come vi devo dire sono soldi ben spesi quelli di Daredevil che arriva al numero 6, c'è sempre Chip Zarsky ai testi e si vede e si sente, ai disegni c'è un degno devo dire sostituto di Marco Checchetto che però nei primi cinque numeri ha fatto un lavoro secondo me mostruoso, veramente mostruoso. Ebbene questo Sharma, il nome vero e proprio, non so se lo becco, Lalit Kumar Sharma è essenziale, essenziale, si distacca abbastanza da Marco, però dipinge e veste bene la storia e la sceneggiatura di Zarsky che secondo me, tranne quell'impallo un po' sul numero 4 dove vi dico un'altra volta sempre la storia cosa dei contrasti interiori, del supereroe che lo fa per un certo fine, quell'altro che non va dai mezzi pur di raggiungere, ha trovato dopo quello una bella quadratura del cerchio e troviamo il nostro Matt Murdock in semplice veste di avvocato e tutto il mondo che gli gira intorno. Vediamo come l'antagonista che ci è stato presentato, cioè Cole, il poliziotto, abbia dei grossi problemi perché Daredevil è scomparso dalle scene e non tutti hanno visto di buon occhio questa uscita dal panorama supereroistico di New York e quindi avrà il suo bel da fare, vediamo come Matt Murdock impiegherà il suo tempo tra tempo libero e lavoro e tutto il panorama intorno dagli abitanti ai malandrini della zona, come si svolge la vita dopo questo evento apocalittico di dimissioni da supereroe di Matt Murdock, appunto dai panni di Daredevil. Ancora a 2€, se è il 6 della collana, numero 9 della vecchia numerazione, Zarsky e Charm, anche questo quando il sole tramonta io mi sento di consigliarvelo e di andare a recuperare gli arretrati. Voto? E qui io salgo di almeno di mezzo punto salgo perché 7 e mezzo glielo do proprio tutto. Funzione di entertainment non solo ma anche ben 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 scritto. Ora due supereroi romperei con un po' di manga. Ebbene, era già uscito Children of the Sea, è di Top Planet Manga, e l'avevo lasciato passare proprio così sotto i miei occhi, non gli avevo proprio prestato attenzione, nonostante se io negli anni addietro fossi stato attirato in particolar modo da appunto dai disegni di Daisuke Igarashi. Daisuke Igarashi ha avuto diverse pubblicazioni in Italia, per molti magari sarà passato sotto tono, però io me lo ricordo in particolar modo per Witches che era pubblicato da K Edizioni, ma non è stato pubblicato solo quello perché c'è anche Saru sicuramente, da J-Pop e qualche altra cosina, adesso non mi sovvengono i titoli. E ho detto a sto giro, ripresentato, ho voglia proprio di leggerlo perché mi andava proprio di vedere quei disegni. Ve li faccio un attimo vedere perché per me Igarashi è un grosso disegnatore, attentissimo ai dettagli, bravissimo nella costruzione delle scene, secondo me non ci si perde mai nella sua narrazione, avevo proprio voglia di gratificarmi gli occhi con qualcosa per me bello, ebbè non ho trovato di bello soltanto i disegni, ma ho trovato di bello proprio una grandissima storia. Allora, primo di cinque volumi, Planet Manga, 12,90€, non costa poco, ma secondo me il valore dell'opera li vale tutti quanti, a prescindere da questo, ma adesso lasciamo stare tutto il discorso dei prezzi. Children of the Sea, perché I Bambini del Mare? La storia sostanzialmente non riguarda solo i due protagonisti che sono stati allevati da un gruppo di dugonghi, allora perché all'inizio ci vengono presentati questi due come dei fenomeni, ma in realtà riguarda anche Ruka che è la bambina all'inizio che ci viene presentata, come una bambina figlia di genitori separati, problematica a scuola, però si imbatte in Umi e nasce subito in un'affinità con questo ragazzo, col fatto che il padre lavora al parco oceanografico, non è uno zoomarine, però è un vero e proprio istituto di ricerca sui pesci, e scopre che questo Umi, visto una volta vicino al porto tuffarsi in mare in una serata, in realtà è distanza lì, ma perché? Proprio perché lui e suo fratello Sora sono stati ritrovati, che erano stati allevati appunto da dei pesci, quindi hanno sviluppato particolari caratteristiche fisiche più simili ad esseri abituati a vivere in acqua che sulla terra, sulla terraferma, tant'è che appunto devono spesso spesso idratarsi, due ragazzi, due fratelli con caratteri e caratteristiche diverse, entrambi alla ricerca di qualcosa e alla ricerca di un evento grosso che dovrà accadere, non si sa bene cosa, ma sembra essere molto molto importante, sia per loro che per tutto il mondo subacqueo, perché vediamo delle strane migrazioni, pesci che dagli abissi emergono e ci viene detto che vengono appunto a riva per ammirare, non si capisce bene cosa. In tutto questo appunto si inserisce Ruka con le sue problematiche familiari che si butta in mezzo alle dinamiche tra questi due fratelli appunto, cioè Umi che ha una maggiore sensibilità con lei e Sora che invece proprio non la tolera bene, eppure lei ha degli elementi in comune con questi ragazzi e sono proprio curioso di vedere quali saranno, perché sembra nascondere dentro di sé delle caratteristiche, delle peculiarità molto molto importanti ai fini della storia. Non credo di avervela spiegata proprio in maniera così dinamica, però sappiate che questi due fratelli sono molto importanti e nascono appunto da questa particolare situazione che è quella appunto di un allevamento, allevamento in mare, vuol dire sì vabbè è una cosa che è matto, ma che no vabbè ovviamente c'è tutto quanto un filo e un discorso e un discorso logico, quello è soltanto soltanto il pretesto. Sono cinque numeri, quindi voglio vedere se Daisuke Ikarashi riesce a mantenere un livello alto 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 come questo come questo primo albo. Sopraccopertinato edizione devo dire migliore di altre cose che ho visto ultimamente da Planet Manga, voi direi certo pure 12 euro e 90, vorrei ben vedere. Il voto che posso dare al Citron of the Sea è almeno otto, ve beccate un otto, magari leggo dietro così ve spiega un pochino meglio. Il mare a due volti, quello che appare in superficie è quello segreto, celato nelle profondità. Evocativa, surreale e inquietante è la straordinaria avventura di una ragazza alla scoperta di un incredibile mistero racchiuso negli abissi oceanici. Opera vincitrice dell'Excellence Prize nell'edizione 2009 del Japan Media Arts Festival, due nomination al prestigioso premio Tezuka e sono secondo me tutte, tutte, tutte meritate. Un ultimo sguardo. Eccolo qua. Molto, molto bello. Stra, 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 stra consigliato. Poi non dire che non ve l'avevo detto. Ora poi direte che sono di parte e vi faccio vedere, ho letto Geppetto. Ebbene, voi avete visto che ho ospitato Gianmarco Fumasoli, Paolo Altibrandi della Bugs. E contemporaneamente con l'uscita di Samuel Stern, però in edicola, in fumetteria, è uscito anche Geppetto, che si sono portati a Lucca. Geppetto è una storia scritta da Gianmarco Fumasoli e disegnata da Tossena in un modo, a mio modo di vedere, meraviglioso, oltre che colorato da Francesco, che spero si dica Segala, con colori veramente eccellenti. È una rivisitazione del personaggio di Geppetto, cioè quindi la storia di Pinocchio e di Collodi è soltanto un pretesto, come ci viene raccontato nella prefazione dalla storia di Collodi, Pinocchio, sono nate le Pinocchiate e tante 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 altre storie che prendevano appunto il pretesto per poi sviluppare altri personaggi, altre storie, che non c'entrano niente con quella base. Ecco qui ci focalizziamo su Geppetto e su una versione abbastanza, come posso dire, pessimistico, povera dell'uomo Geppetto, un uomo in preda a un certo punto alla disperazione e a un gesto estremo che questa disperazione lo porta a compiere. Ora, i giudizi sul gesto estremo di Geppetto li lasciamo ai posteri, questo è sicuramente un modo per esorcizzare un certo tipo di comportamenti, ma vuole analizzare come l'animo umano per proteggere e coltivare tutto ciò che è più caro e disposto a fare qualsiasi cosa. Non mi resta che mostrarvi le capacità artistiche di Tossena e i colori di Segala perché sono secondo me eccezionali. Io ritengo al giorno d'oggi Tossena uno degli artisti più interessanti assolutamente sul palcoscenico del fumetto italiano, ma per me anche internazionale. Vediamo cosa dice Gianmarco Fumasoli sul retro. Il costo intanto dell'albo è di 14,90€. Ogni storia che scriviamo, che sia su carta o anche solo nella nostra testa, si porta via un pezzettino di noi, qualcosa che avevamo bisogno di perdere anche se inconsapevolmente. Geppetto è stato un viaggio in cui io e Francesco ci siamo trovati in sintonia e durante il quale probabilmente siamo riusciti a liberarci di qualche sasso. Quindi insomma c'è anche una parte, chiamiamola autobiografica degli autori all'interno di questa storia, ma non perché parla delle loro vite, ma perché appunto hanno messo una parte di loro stessi all'interno di questa chiamiamola appunto graphic novel molto 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 bella. Il formato è questo qua che ci consente appunto di apprezzare in modo eccellente le tavole del disegnatore molto molto bello. Mi sento mi sento anche in questo caso di dare un bel sette. Mi sento di dare un bel sette. Ma attenzione voi direte anche questa volta non ci parli di niente di brutto e per fortuna non mi è capitato niente di brutto ma voi dovreste essere contenti perché quello che vi consiglio è solo materiale eccellente vuol dire che in giro c'è c'è materiale buono da leggere c'è materiale per alleggerire i vostri pensieri per crescere per pensare per divagarvi Dio voglia il cielo che cosa non so che dire per fortuna per fortuna c'è buona roba in giro. Detto questo avete visto tutti i bei voti io adesso mi sento di dire due cose. La prima mi scuso con Lorenzo Palloni e Luca Lenci perché ha contribuito anche lui a quest'opera e mi scuso anche con la salda press. Io ho sempre criticato la salda press per le sue politiche di vendita non lo nego e continuo a dirlo perché lo dirò anche a Giammar ma gli editori che fanno i venditori non piacciono io poi capisco che abbiano bisogno di vendere ma l'editore deve fare l'editore il venditore deve fare il venditore devono esserci delle regole ben precise e a me molte politiche della salda press non sono piaciute soprattutto in fiera però allo stesso modo quando devo dare ragione devo dare ragione la salda pressa ha pubblicato un albo che a mio modo di vedere al di là di dei critici è passato in secondo terzo quarto o quinto piano al grande pubblico ebbene vi sto parlando di un'opera che se le cose rimangono così è in glizza per vincere il titolo di miglior fumetto che io abbia mai letto nel 2000 l'interno 2019 ho fatto tutto un cliffhanger per tenervi sospesi anche se non ve ne frega niente però sono sicuro che ci siete arrivati qua perché volete sapere che cosa ho letto di così clamoroso e spero che questo video renda giustizia all'autore che comunque ha ricevuto un botto di riconoscimenti premio boscarato mi sembra granguinigi e lucca altre viso comics un sacco di premi ma se li merita tutti e alla salda pressa ma sai perché perché non ho pompato questo albo ma perché erroneamente non l'avevo letto non avevo creduto a quello che ho letto a destra manca un po gli impegni della vita un po' de qua un po' de là era passato così fino a che a un certo punto ho detto vabbè ma ma è sempre chiamato là dallo scaffale no sia un po' per il suo formato strano per questa copertina piena dei colori belli vividi anche se la figura in copertina così annerita non mi ha chiamato però nel complesso ripeto mi chiamava sapete no quando andate un po' anche in libreria un fumetteria vedete quel volume sapete che prima o poi ce ne finite ecco io ci sono finito e chiedo appunto scusa di nuovo alla salda pressa per non aver pubblicizzato o spammato a rotta di collo questo volume spero di rimediare da questo natale in poi perché lo consiglierò a tutti e sto parlando della lupa eccolo qua in questo formato così quadratotto prezzo 22 euro se sono qui di fronte a te vuol dire che non c'è più tempo la lupa è un graphic novel noir scritto e disegnato da lorenzo palloni autore di mond che devo andare a recuperare assolutamente e sceneggiatore dei pluripremiati instantly elsewhere at the corner vite all'angolo tra le altre cose sapete quando mi è rivenuta in mente la storia della lupa perché ho presentato recentemente un volume proprio della salda press cartonato un po' più grande forse di geppetto volume 1 di 2 e mi pare che c'era sempre lorenzo palloni coadiuvato un altro autore allora lì ho rifatto l'associazione ho detto a lorenzo palloni autore della lupa voglio andarmi a recuperare la lupa ecco perché sono andato a ripescarmelo e vi devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato e non rende l'idea scioccato ma scioccato non ha un'accezione negativa scioccato in positivo dalla potenza narrativa dalla potenza grafica di questo autore lui confeziona una storia a mio modo di vedere perfetta dalla prima vignetta all'ultima vignetta il problema è che quando arriverete all'ultima vignetta voi direte ne voglio ancora e invece è una storia che finisce e finisce nel modo migliore secondo me forse il più ineluttabile dei modi ma il migliore in assoluto perché non ci poteva essere un altro finale ovviamente non vi svelerò quale però per sommi capi vi racconto qual è la storia la storia è quella di ginger una donna che fa lei all'inizio finisce negoziatrice ma in realtà recupera crediti per degli strozzini cioè è lei stessa una strozzina e non si ferma davanti a niente non ha pietà non ha rimorsi tranne quando la vediamo affrontare una determinata situazione dalla quale incominciano a crearsi delle crepe ma tutto l'albo in realtà ce la dimostra come un essere spietato molto più di quella che potrebbe essere una lupa che difende i suoi cuccioli lei è così perché il nonno l'ha instradata su quella strada appunto fin da quando era piccola perché era grande e grossa e lei quello ha fatto e quello sempre ha saputo fare e ha cercato la via di scampo nel crearsi una famiglia normale ma voi capite bene che non è un universo familiare normale dove lei non può raccontare a niente niente a nessuno dove ha dei figli da accudire almeno uno perché l'altro è a studiare lontano è un marito che a un certo punto ovviamente si pone degli interrogativi noi seguiamo tutte quante le dinamiche tutte quante le problematiche un'analisi veramente minuziosa una costruzione minuziosa della carriera criminale di questa donna e il tutto suo tutto il suo essere a un certo punto comunque criminale madre e poi forse persona migliore forse dico giungo forse non mi resta altro che farvi vedere la particolarità della costruzione di questo albo perché è tutto quanto fatto con lo stesso schema sono sempre 9 vignette a tavola ma ci sono dei passaggi clamorosi cioè ci sono delle tavole c'è un momento in cui avete visto sono 99 vignette a tavola beh palloni è in grado di gestire ecco guardate così sono evidenziate con colori diversi ma in una stessa tavola ci sono tre narrazioni distinte tutte quante parallele distanziate di pochi minuti vedete così e che poi vanno a confluire in un unico finale che è sensazionale cioè lui riesce al millimetro a far combaciare tutto allora questa è un'opera superiore quando si incontrano questi fumetti è un'opera superiore il rischio è che una volta letto questo tante altre cose le possano sembrare infinitamente più basse perché lui alza la sticella palloni alza la sticella della qualità e palloni è in grado di gestire molteplici fili moltiplici livelli narrativi tutti quanti che combaciano in modo perfetto con un substrato eccellente questo è quando vi dicevano parlando con chi era con un gianmarco fumasolio che quando dal prà diceva io comincio a scrivere la storia quando ho il finale beh questa storia non ha solo finale ma il finale ce l'ha e il finale se poi poi una volta che legge l'albo provate ad andare indietro capite tutto quanto capite tutto quanto come quel finale sia eccellente e poi risvolgerlo al contrario fino all'inizio eccezionale io io non non riesco a a dirvi di più perché è bellissimo anche i colori di luca lenci e quindi che cosa dire se non consigliarvi eh di leggerlo ma il prima possibile vi dovete proprio sbrigà perché non potete stare nel 2019 senza aver letto la lupa clamoroso io adesso mi vado a prendere tutte le altre cose scritte da lorenzo palloni mi sbrigo proprio vado a recuperare a mund e quest'altro titolo che spero di ricordarmi o andate a beccare l'ultimo eh gli ultimi dg comics perché rappresentato là sempre un altro albo della salda press e io ho scoperto veramente quest'autore mi scuso per essere stato ignorante fino a questo momento ma ripeto devo recuperare devo espiare la mia colpa lo consiglierò a tutti quanti ma cioè avete presente ed brue baker il noir d'ed brue baker e questo è meglio questo è meglio meglio ma non soltanto per la crudezza di alcune cose che rappresenta quella è funzionale ma il modo di descrivere di raccontare di svolgere la storia è mostruoso mostruoso come ve lo dico non so più come dirvelo sono fomentato tante tante ho detto è difficile dare no voti alti eccetera eccetera magari il 10 non lo darò mai il 10 mo tengo magari per dei lavori dalla muro da altra gente quella fa pare questo la lupa 9 9 9 9 forse 9 e mezzo ma teniamoci lo spazio tra 9 e 10 perché ne so 9 9 9 il piccolo diavolo no 9 9 ve lo dovete leggere venite qua ve lo sfogliate e verrete attirati in una maniera morbosa da questo albo anche solo graficamente figuratevi quando l'avrete letto basta non vi dico altro non vi rubo più tempo non state più ascoltare i miei fregnacce io questo è quello che vi devo dire soprattutto quest'ultime due cose children of the sea e e la lupa clamoroso come l'altra volta avevo fatto emergere due titoli anche questa volta faccio emergere due titoli pur non levando niente a quelli precedenti eh per carità di dio questi due belli 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 il fagiolo ho parlato non dico altro vi invito a tutti quanti a iscrivervi a tutti quanti i canali attivare campanelle dj comics ss fumetto forbidden planet roma qua sotto se volete troverete i link per sostenere il canale canile anche la pagina influencer di amazon sempre se non avete una fumetteria nelle vicinanze perché vi ricordo sempre sostenere la vostra fumetteria per il resto è tutto le battaglie sono tante viene avanti recensione gigante la gola è andata vi voglio bene che c'è il pirimello vegli sempre tutti voi ciao